Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Oggi, dopo circa 4-5 giorni di utilizzo di questa moto Cerco di riuscire a fare un video Perché quelli che ho registrato finora erano tutti che andavo in giro senza parlare Perché erano emozioni troppo grandi E cioè, salire in moto dopo quasi due mesi è qualcosa di impressionante È vero che avevo anche l'altra moto, ovvero la Kawasaki Però, cioè, il mio mondo è quello dei motardi, non c'è niente da fare Comunque, non so come sia possibile, ma con la Kawasaki Ci ha voluto un bel po' di tempo per cercare di adattarmi su quella moto Ad avere un minimo di confidenza Con questo qui, invece, dopo due mesi che ci salgo Già ieri avevo preso confidenza e riuscivo a maneggiarla come fosse una bici Presto vedrete molte nuove modifiche Su questa moto, ovviamente, perché la Kawasaki non la tocco così Non posso avere problemi quando vado in giro Dopo sei ore di scuola abbiamo finalmente finito E adesso stiamo tornando a casa C'è anche un ospite speciale Mia sorella Che non so perché, ma è voluta venire a prendermi Noo, ho rigato il casco, va a f***o Porca L'ho rigato tanto qui Credo Ho tirato una botta allucinante Porca No, non dirmi così Dai No, lo sto spizzando, Ale Aspetta, ma lo guardo adesso Ho occhio a toglierlo Polizia, 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 polizia Gli avanti provo a fare una partenza Vedo se mi riesce bene Il problema è che in prima mi si alza E quindi, cioè, non riesco ancora ad usare bene il gas Perché il mio amico me l'ha sistemato Grazie a tutti Grazie a tutti